Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo, chiunque trova lui ha la vita eterna. Dal Vangelo di Matteo, capitolo 13, versetti 1-9. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riba al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose comparabole e disse Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo. Ma quando spuntò il sole, fu bruciata e non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto. Il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Alla generazione perversa e adultera, Gesù aveva proposto il segno di Giona e un significato di questo segno di Giona era che il profeta ha predicato a Ninive e Ninive si era convertita. Così Gesù, che è più di Giona, si rivolge alla generazione attraverso la predicazione, chiamando i suoi contemporanei alla conversione attraverso il segno povero della predicazione. Infatti, alle folle che si sono radunate attorno a lui, sono numerose, tanto che Gesù per predicare deve salire su una barca, alla folla Gesù parla, predica, insegna e parla di molte cose usando le parabole. La parabola è un modo di parlare che Gesù usa quando vuole rimuovere le difficoltà che i suoi interlocutori incontrano per riconoscere in lui il Messia. Una di queste difficoltà che i contemporanei di Gesù avevano nei confronti della sua missione, una difficoltà che impediva loro di riconoscerlo come Messia, come abbiamo detto altre volte, era lo scarto tra il modo in cui normalmente ci si immagina l'intervento divino. Quando Dio interviene, evidentemente, noi pensiamo che sia un intervento potente, un intervento che condanna e vince, sconfigge il male, sconfigge la ingiustizia per far nascere nel mondo una comunità nuova che vive nella pace, nella gioia. Questa era l'attesa del Messia. Addirittura c'era una mentalità che si chiamava apocalittica che diceva che quando arriverà tutto il mondo di prima finirà e inizierà un mondo nuovo. E invece Gesù viene, opera certamente delle guarigioni, opera degli esorcismi, ma sembra che il mondo non cambi nella sostanza. Al contrario, l'opposizione nei suoi confronti cresce man mano che lui agisce. I capi dei sacerdoti gli sono contrari, e così i saducei, e così i farisei, addirittura il suo paese e infine anche i suoi parenti si contrappongono a lui, non lo vogliono seguire, altro che salvatore. Sembra uno che invece di salvarsi non sia capace di uscire dalla opposizione, non sappia salvare la propria vita. Ecco, come reagisce Gesù a questa obiezione? Gesù reagisce appunto non come avrebbero voluto i farisei. Se tu ci compi dei segni prodigiosi, allora noi riconosciamo che tu sei il figlio di Dio. Risponde con la predicazione, in particolare con la parabola della semina. La semina in Palestina avveniva su terreni pieni di sassi, di rovi. Alle volte i campi diventavano strade. Il Vangelo ricorda che Gesù stesso un giorno con i suoi discepoli aveva attraversato dei campi di grano. La semina doveva dunque sempre prevedere che dei semi sparsi sulla terra andassero perduti, perché caduti tra i sassi, oppure soffocati dai rovi, oppure calpestati dai passanti. Guardata da questa prospettiva, la semina appariva come un disastro, una perdita. Si poteva avere l'impressione, se uno si fissava sui chicchi perduti, che la semina era a tempo perso, anzi, era svantaggioso per l'agricoltore. Il contadino rischiava di lavorare per niente. Ma in natura invece non avviene così. Al seme perso corrisponde il seme che invece trova della buona terra, che dunque germoglia, che produce la spiga, e da un chicco, nella spiga, si ottiene l'abbondanza. Da un chicco si può avere 30 chicchi, 60 chicchi, 100. Si può avere una resa da 1 a 100. L'abbondanza della semina è prevista con larghezza da Gesù. La semina che ha pur perso dei semi in realtà è vantaggiosa perché crea con abbondanza ciò di cui si ha bisogno, il seme per il pane. Gesù dunque racconta la parabola della crescita del seme e notiamo che Gesù ne racconterà molte parabole che hanno come tema quella del seme, quella della crescita, del piccolo che diventa grande. Perché appunto vuol convincere chi ascoltava il suo tempo, ma anche noi che ascoltiamo adesso, che nella storia, nei fatti, è all'opera la potenza di Dio, il regno di Dio che si è fatto vicino, è già presente, anche se abbiamo l'impressione che in realtà vincere sia il male. Il seme è attivo ed emana un'energia di vita che scaturisce appunto dal fatto che viene posto sottoterra e il seme è Gesù, posto nel sepolcro da cui scaturisce la forza della ressurrezione. Questa potenza è sperimentabile nell'intimo quando si ascolta la parola, ma è sperimentabile anche nei segni e nel segno della comunità, quella comunità che nasce dall'ascolto della parola, dalla predicazione, quella comunità che Gesù ha definito alla famiglia sua, quelli che ascoltano e mettono in pratica e portano frutto. Questa famiglia dei discepoli è presente nel mondo. Oggi dunque Gesù ci scuote non lamentarti, non cadere nell'ansia, non aver paura della sorte della tua fede, non credere che le cose vadano solo di peggio in peggio, apri gli occhi, chiedi che lo Spirito Santo ti illumini per riconoscere per riconoscere che nel seme c'è una potenza di vita e anche se ci sono semi che sono soffocati dalle preoccupazioni della vita, che sono stritolati dai sassi o calpestati dai piedi, vedi i segni nel mondo, i segni che sono frutti buoni scolgati dalla predicazione del Vangelo, vedi la belletta nascosta nella vita dei discepoli di Gesù che vivono una fiducia, che si aprono la vita con speranza. Anche la famiglia dei discepoli è il luogo buono per noi per verificare questa potenza. Certo, ci sono dei limiti nella famiglia della Chiesa, anche dei peccati, ma c'è anche un tesoro nascosto che se viene scoperto cambia il nostro lutto in gioia, le nostre lacrime in grida di gioia. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buona giornata. Grazie.